Allora, questo è lo Switch 11V, PC da 11 pollici, della famiglia 2N1 di casa Acer e con la possibilità dello schermo che si stacca. Quindi l'attacco, tutti i PC di casa Acer ha un attacco magnetico, quindi non è meccanico, questo comporta una maggiore longevità degli attacchi della tastiera, in quanto non essendoci movimenti meccanici il magnetismo non è costante nel tempo. Questo è un Gorilla Glass, il processore è di sesta generazione, Core M, sostanzialmente è la stessa velocità di un processore i5 e più performante rispetto al 10 pollici e quindi un po' più veloce, la RAM è da 4GB, 500GB di hard disk anziché 32, color alluminio completamente in alluminio, fotocamera posteriore e interiore. Questo è il prodotto più commerciale di casa Acer e quello più venduto soprattutto ultimamente in vista del periodo natalizio. Allora innanzitutto la fascia prezzo di questo prodotto siamo dai 250 ai 300 euro, è un prodotto molto venduto perché è molto versatile ed è anche un 2 in 1, quindi io posso portarmi in giro a passeggio con quel tablet e lasciare la tastiera a casa perché comunque la batteria è tutta all'interno del tablet e ha 12 ore di autonomia. La comodità della tastiera è oltre a quella di scriverci, quindi magari scrivere articoli di Feldy World e Office e via dicendo. Ha anche una porta USB classica perché nel tablet abbiamo soltanto la micro USB. Nel tablet è presente anche la micro HDMI per vedere un'alta risoluzione su un secondo monitor o un secondo schermo. Possibilità di espandere la memoria in quanto ha 32 giga tutto allo stato solido e la quale è possibile espandere fino a 128 giga con una micro SD, quindi alla porta micro SD. Per quanto riguarda la durezza del prodotto è un prodotto molto resistente in quanto ha un dietro Gorilla Glass 3 e una miscela di particelle di vetro e consentono una maggiore resistenza agli urti rispetto ad altri prodotti. Un'altra particolarità, vabbè, oltre ad avere webcam interna ed esterna, esterna da 5 megapixel, interna da 2, un'altra particolarità è che è possibile personalizzare queste cover. Quindi abbiamo una tavola di colori come l'azzurro, il rosa, il viola, il grigio, il nero e queste cover sono intercambiabili, quindi puoi personalizzare il device a tuo piacimento. La RAM è da 2 gigabyte, quindi ha processore Atom. Le caratteristiche oggettive sono per un utilizzo è scolastico, quindi prendere appunti e portare le università in giro, insomma per un utilizzo con operazioni abbastanza semplici, in quanto è una batteria molto longeva come Atom.